E' un po' che fa il fame da Roma e io sappiamo cosa facciamo Mi sembra un po' di meno dire Un pezzo Un pezzo Un pezzo Un pezzo E la chiave se la abbiamo? Qua? Ottimo Un pezzo Un pezzo Ciao, ciao, ciao! Allora, abbiamo ancora il giusto! Edmond Basha che venivo all'alto dalla Sviterlanda per fare un video con me e lo rimane per 15 minuti e lo intendo di fare il migliore outfit e lo mostre il caimento di chi resta su un'altra cosa per un'altra cosa e lo senti sempre la cosa sempre giocare perché non avevo tanto tempo perchè non vogliamo costruire il tempo. Ok. Ora, con il violino che aveva lavorato per qualche anno, poi è cambiato da Spredyberry a Guarnieri, e questo è un Spredyberry, quindi ha un bellissimo, bellissimo, molto riche, ha già già played for 4-5 anni, e questo ha il Guarnieri modello con due scrisi, ok? Ora la facciamo, la facciamo, ora, 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 ora facciamo il resto, ho sentito, la facciamo, e allora, and we put on a different tailpiece and we put on always this model with different screws ok, with very economic small screws and let's see how this sounds so here we have this screw which is connected ok, let's hear how this one is that's true ok, let's see how this is ok, we don't make comments, we just leave it up to you but we are surprised about how it sounds with the connected screw here this is number 2 and then this one is now boxwood so we take always the connected screw and vernier remodel but in ebony just to see if the wood itself is somehow influencing the sound so here we have now a vernier in ebony you were listening? did you hear the difference? I was listening to the difference and I was also even surprised about the difference between ebony and boxwood, do you agree? yeah this is interesting and we don't make conclusions here, for us it doesn't really make any difference but we enjoy doing this but you should just listen to it, go back and forth and leave your comment below what's for you the best sounding one I wanted to use something, now let's take first this one a small boxwood on the side I think it's called Dresden, this model, is that correct? maybe I think this model is called Dresden, just like the town in Germany so this is a side model, even on this model watch out very careful that the tailpiece does not touch the tailpiece it doesn't sound well on this one, he has a connected screw like this oh 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 E' molto interessante, non? il tema dei mali ok che un po' underline le mie idee riguarda le chain rest ma è anche un questione di personalità per le modelle che si possono bene fine adjust in modo usually le persone search for comfort per la forma di come la sua la legge la legge i sensato si hanno un problema rilani sui si modo è un po' più più di g il spettacolo vediamo a la differenza tra boxwood e ebony di questo Dresden Maul ha sempre questi scrisi che sono collegati ad un'altra e bisogna guardare che non si toucha la tailpiece ma questo è un po' più overlapping come si vedete questo è un po' più siderato ma è un po' più grande ebony vediamo se quanto tempo possiamo andare in questo tipo di giorni perché non conosciamo noi come ha detto già noi siamo marati perché abbiamo una violenza in between noi ebony 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 ha con il mio amore Bernard di Tocchio è stato venduto questi, mi sono davvero impresti è stato un grande shape, vi mostro qui e le scrisi sono titaneo scrisi connecciate, come mi piacciono bene come le scrisi sono molto piacere e normalmente mi piace i modelli, i modelli, i modelli, come Dresden perché credo che è giocato più di 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 più. Ma poi non sono molto più entro per questo, ma poi ho lasciato. Ora ho ancora di più di più, ma sono molto curioso di come questo è. E' molto bello, è molto bello, è anche molto bello. Ok, non è molto bello, è davvero bello, ma in più di 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 più. E' anche l'altro, questo è sempre da una esperienza come la la luce, con uno scriso di acqua sino un po' di più 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 di più. E' anche una guanieri. Ok, questo è un nuovo scriso di acqua, la guanieri, con un po' di più di più di più di più, Scrollhe screws, and this is the last one we put on. And, then we actually want to hear your opinion about this chin rest test of eight different chin rest. Certainly, just tell me or which chin rest you want to hear next time and then we are going to arrange another chin rest test with Edmond. But, for today, I think we are really good. Grazie. Grazie a tutti. I hope you enjoyed this video. See you next time and subscribe. Bye bye from Edmond Pasha and Edgar Rus from Cremona. Bye bye. Ciao ciao.